Dopo aver creato la nostra composizione il prossimo passo è quello di cominciare ad importare degli elementi da poter utilizzare nelle nostre composizioni. Adobe After Effects ha la possibilità di importare tantissime tipologie differenti di file nonché immagini fisse, progetti, psd che vengono da Adobe Photoshop, immagini video, sequenze di immagini e quant'altro. Tutte queste operazioni si effettuano all'interno del pannello di progetto dove verranno anche tra le altre cose archiviate i nostri file. Andiamo a vedere come importare diverse tipologie di materiale. Abbiamo diverse opzioni, la prima è quella di cliccare con il tasto destro del nostro mouse all'interno di quest'area e scegliere import e qui abbiamo diverse opzioni. Quelle che più ci interessano è l'importazione di singolo file o di file multipli. Quando selezioniamo l'importazione di singolo file potremo selezionare un file per volta, mentre quando selezioneremo la scelta di multiple file potremo selezionare più file per volta. Naturalmente quando si intende più file per volta parliamo non di sequenze di immagini. Per chi non lo sapesse una sequenza di immagini è un video dove, invece di essere compresso all'interno di un unico file, ogni fotogramma è un file a sé stante. Quella tipologia di materiale Adobe After Effects la legge in automatico selezionando il primo fotogramma, con un'opzione specifica che adesso andremo a vedere. In questo caso qui è soltanto nel caso in cui volessimo selezionare più file contemporaneamente. Le altre possibilità sono di selezionare un file della nostra libreria, la libreria intesa la libreria Adobe Creative Cloud, di importare un progetto di Adobe Premiere Pro, queste sono le caratteristiche più importanti. Un altro modo per arrivare a questo menu è andare nel menu di sistema, cliccare su file, importa, file, multiple file e ritroviamo lo stesso identico menu. Qui troviamo anche la possibilità di poter importare dei footage, ossia dei girati del materiale recente. Quindi andiamo ad importare, quindi andiamo a cliccare su import file. Ci si aprirà quella che è il menu di importazione, il menu di sistema per la selezione delle immagini. Io sono andato all'interno della cartella dove ho predisposto una serie di materiale e andiamo a vedere subito che cosa possiamo importare. Ho preparato quattro esempi, ma come vi ripeto Adobe After Effects importa molti più tipologie di file. Io ho preparato quattro esempi più semplici. La prima è una clip video codificata da mp4 e nel momento in cui andiamo a selezionare la clip video semplicemente clicchiamo apri e l'abbiamo importata all'interno del nostro software. Ora da qui possiamo cliccare due volte sopra, ci si aprirà il pannello footage dove possiamo andare tranquillamente a visionare la nostra clip. Ancora continuiamo, proviamo a importare un'altra tipologia di file, in questo caso invece un'immagine, una fotografia in jpeg. Ora, essendo questa non una clip video, naturalmente quando cliccheremo due volte sopra non avremo il cursore per andare avanti e indietro perché è soltanto un fotogramma e soltanto un'immagine. Dato che è molto grande, io zoomo un pochino indietro così posso vedere tutta la mia immagine. Ancora andiamo in questo caso adesso ad importare una sequenza di immagini. Come detto, le sequenze di immagini sono dei video con la caratteristica che invece di essere compresse all'interno di un unico file come la prima clip che abbiamo importato, sono fotogrammi separati, numerati in modo crescente, soprattutto alfabetico. Quando noi andiamo a selezionare il primo file di una catena, noteremo che After Effects in automatico crea, aggiunge una spunta. In questo caso, essendo un file png, mi dice di voler importare una sequenza di file png perché ha riconosciuto che c'è una sequenzialità. E nel caso in cui ci fossero dei salti temporali, quindi dal 16 si passa al 20, possiamo forzare l'ordine alfabetico. Un'altra opzione molto interessante che possiamo andare a selezionare, ma questa anche con gli altri tipi di file, è di importare il nostro materiale, di creare una composizione al tempo stesso, dove lui metterà il nostro materiale all'interno di una composizione con le medesime caratteristiche del file che stiamo importando. Una volta selezionato quindi il primo file del nostro elenco, andiamo a cliccare su Apri. Così facendo, lui Adobe After Effects, ce lo mostra anche con un'icona totalmente diversa, avrà importato una sequenza di immagini e ce la mostrerà come video. Nota molto importante, le sequenze di immagini all'interno non portano un dato fondamentale che è il frame rate. Se per esempio io seleziono la clip video, noterò qui nel pannello in alto il nome della clip video, il formato, quindi 1920x1080, la durata della clip e a quanti fotogrammi al secondo va questa clip. Mentre quando importiamo una sequenza di immagini, ci darà le stesse identiche opzioni, ma di base qui questo parametro non è detto che sia 25. Questo parametro infatti di base viene impostato a 30 fotogrammi al secondo. Io all'interno del mio sistema, all'interno del mio software, nelle preferenze, adesso vi farò vedere come, ho impostato che tutte le sequenze che vengono importate devono essere importate a 25 fotogrammi al secondo. Questo per una maggior comodità durante il lavoro. Nel caso in cui avessimo importato una sequenza a 25 fotogrammi al secondo, possiamo andare a cliccare con il tasto destro sopra la nostra sequenza di immagine, chiedere di voler interpretare il girato e scegliere la voce main. All'interno di questo pannello che ci si apre, noi possiamo decidere a quanto deve essere letto il nostro footage, quindi il nostro materiale. In questo caso è già selezionato 25, ma potrei tranquillamente mettere 30 e cliccare ok. In questo caso adesso la nostra sequenza durerà meno tempo perché è stata interpretata a 30 fotogrammi al secondo. Per tornare indietro, ancora interpreta metraggio, main, andiamo a scrivere 25. Ultima tipologia di file che voglio importare è un file PSD. I file PSD sono file di progetto di Photoshop che, essendo un software della stessa società di produzione che era Adobe, ha un'enorme compatibilità, tant'è che noi potremo, una volta cliccato sul nostro file PSD, aprirlo e ci comparirà un menu, ci comparirà una finestra che ci chiederà due cose. Se voler importare il nostro elemento come girato, come footage o come composizione. Perché ci chiede di importarlo come composizione? I file di Photoshop hanno una loro struttura. In questo caso io l'ho aperto all'interno di Photoshop e come potete vedere all'interno dei layer, ci sono tutta una serie di layer sotto cartelle e sotto composizioni. Ora, questo perché mi permette di modificare e regolare tutte le impostazioni. Se io seleziono di voler importare il mio file PSD come footage, una volta cliccato ok, lui mi importerà il file come fosse un'immagine con le sue caratteristiche, ma senza possibilità di modifica, un po' come se avessimo importato un file JPEG. Mentre, se di nuovo proviamo a reimportare il nostro file PSD, andiamo a selezionare la voce Composition, gli diciamo di voler importare il nostro file come fosse una composizione. L'altra opzione è quella di importare il nostro file come una composizione e di ridimensionare tutti i livelli ai livelli della composizione che abbiamo aperto sotto. Normalmente io preferisco sempre evitare, quindi importo come composizione. Abbiamo due opzioni. Possiamo fare in modo che tutti i livelli e gli stili di livello siano editabili, quindi possiamo andare a modificare tutti gli stili di livello, oppure importare tutti i layer, ma andare a creare un merge di tutti gli stili di livello all'interno di footage. Faccio un altro esempio. Ad esempio, in questo caso, ci sono diversi stili di livello attivati su Photoshop, come possono essere i gradienti, come possono essere le maschere. Tutto questo verrebbe annullato, cioè noi non avremo la possibilità di poterlo andare a modificare. Quindi io seleziono sempre di norma di importare come composizione un file editabile e clicco OK. Con questo processo non verrà importato un solo file, ma verrà importata una composizione con all'interno tutti i livelli che noi troviamo all'interno di Photoshop e verrà creata una cartella all'interno di After Effects con tutti gli elementi importati dal file PSD. Quando lavoriamo in questo modo, After Effects importa ogni singolo livello come fosse un file a SEA. Quindi noi ci ritroveremo tutta una serie di file che sono in realtà tutti i livelli del nostro file PSD, che tra le altre cose sono rinominati reflection1.psd.libro.psd perché il reflection1 è il nome del livello, quello che viene subito dopo è il nome del file PSD. Tutte le altre sono delle composizioni presenti sotto forma di cartella all'interno del nostro file PSD che noi possiamo tranquillamente entrarci all'interno e vedere che cosa contengono e andare eventualmente a lavorarci.